segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora sandra dicevamo mentre si ragiona della riforma della giustizia succede questo succede che si arriva l'arresto e partiamo in senato sì certo e quella famosa frase i mafiosi non parlano al telefono allora io vorrei ricordare l'onorevole cattaneo che parlano benissimo al telefono e lui dovrebbe saperlo perché in questo paese è andato in carcere un signore di nome antonio dalì che è stato un vostro senatore sottosegretario all'interno ma non è andato in carcere così per un'accusa vaga perché effettivamente ha favorito la famiglia mafiosa di matteo messina danaro questo è un fatto incredibile che in questo paese è passato inosservato e quel processo è stato possibile grazie alle valorose gesta di investigatori che sono stati fermati trasferiti quando lui era sottosegretario all'interno compreso un prefetto di trapani che è stato trasferito e sono state possibili grazie alle intercettazioni tutta quell'indagine allora quando io dico che forza italia è a un peso in questa compagine di governo non può che essere così perché quella storia lì di dalì non è che sia finita ma dalì non è l'unico personaggio politico in cui diciamo ci sono state delle connivenze con organizzazioni da lì è stato richiamato diciamo alle sue responsabilità e ci mancherebbe ma mi sembra che in sicilia come dire c'è una storia variegata di connivenze non facciamo passare l'equazione che forza italia strizza l'occhio purtroppo è una storia diffusa mi faccia parlare ascolti mi faccia il nome di qualche altro sottosegretario all'interno condannato per concorso esterno in associazione mafiosa che il 14 dicembre si è consegnato al supercarcere di opera nel silenzio ma ci sono governatori della sicilia che sono stati voglio dire sono andati in carcere c'è una lunga storia purtroppo di connivenze della politica e per fortuna quando arriva poi le indagini e le intercettazioni che noi non toglieremo per la mafia si assicurano la giustizia se vuole le racconto quanti quanti mafiosi i governi di centrodestra e i governi berlusconi hanno assicurato alla giustizia e grazie al lavoro di forza italia quanto si è fatto per mantenere 41 bis e mantenere allora dai sono i governi che arrestano sì ecco perché se non poi entriamo anche io credo che forza italia sono il partito dell'interno vuole racconto che questo le racconto ai giornalisti debbono fare informazione io non le sto portando una mia opinione io le sto portando dei fatti anche io le sto portando dei fatti a lei risulta che ha firmato il trasferimento di un prefetto su richiesta di un sottosegretario all'interno a lei risulta questo ma queste sono cose che fanno parte dell'indagine che ha portato da lì alle condanne che ha avuto ma voglio dire è un fatto come purtroppo in questo paese ce ne sono stati diversi di alcuni esponenti politici che siedono da tutte le parti non rende meno grave il fatto ovviamente non rende meno grave il fatto ma non voglio far passare che ci sia un'equazione Dopodiché però ti chiedo Sandra qual è il punto la vicenda da lì in questo studio è stata ampiamente raccontata ti chiedo qual è però il punto a cui vuoi arrivare tu dici succede che c'è la riforma della giustizia c'è la figura di Nordio Forza Italia in questa riforma possibile che ovviamente per la maggioranza di governo non è auspicabile c'è molto moltissimo la mano di Forza Italia questa è la questione che poi è ovvio c'è un condizionamento enorme la Meloni in questo è in difficoltà e si capisce ma si capisce chiaramente ma come si fa a mettere insieme Bostellino e Forza Italia? Secondo me Giorgio Meloni non vuole perdere l'occasione di riformare la giustizia in questo paese e questa può essere una cosa anche se si discute come dire per una volta serenamente senza conflitti di interesse come abbiamo avuto dal 94 a oggi di riforma della giustizia su alcune questioni molto specifiche non è l'esa maestà il problema è come lo fai dopodiché se vai nel merito e dici la separazione tra la pubblica accusa e la magistratura giudicante è giusta c'è un dibattito secondo me sì ed è sacrosanta ed è sacrosanto che se ne discuta in un contesto in un contesto in cui però non ci sono conflitti di interesse di persone indagate o di persone che hanno appunto ancora pendenze con la giustizia ma si può discutere di questo in tutti i paesi si discute fino ad oggi non l'abbiamo fatto perché la questione Berlusconi era un macigno in tutta quella storia diciamo che c'è forse un modo poco politico anche di Nordio di porre le questioni vogliamo dire questo? sì però questo può essere adesso non voglio dire una cosa fuori dal coro però questo è esattamente il vantaggio di Nordio c'è Nordio è un signore che a differenza dei precedenti ministri della giustizia lavora in un governo politico ma è un tecnico e non ha conflitti di interesse è un signore che ha fatto degnamento noi assistiamo Davide a quella cosa curiosa che c'è già capitato di vedere anche quella non è un inedito c'è già capitato di vedere il Parlamento che applaude quando qualcuno li insulta allora quando Nordio dice perché non dobbiamo essere supini alla magistratura applauso sta dicendo vuoi si restare i supini fino a ieri certo che è diciamo un modo un po' forte per entrare in una questione ti colpisce che lui lo dica in quel modo con quei tempi in quella maniera ti colpisce però quelli supini secondo me sono quelli che non hanno applaudito ti colpisce quelli che applaudiscono la forza di Nordio è che Nordio è che Nordio è adesso vedremo come la fa perché poi le cose vanno giudicati non c'è dubbio di nulla ma la forza di Nordio è che il signor Nordio viene dalla magistratura non ha un passato politico non è di Forza Italia ed è un tecnico allora io ed è però in un governo politico allora io vorrei affrontare la questione di giustizia con questo ministro che ha queste caratteristiche particolari che è un marziano rispetto a tutte le logiche e magari può essere un'occasione e magari può essere un'occasione io credo che sia una grande occasione per l'Italia grazie a Sandra Murri Davide resta ancora qualche minuto con noi andiamo in pubblicità e torniamo